Musica Entriamo in studio, eravamo a vedere, abbiamo visto dal teatro Food il lavoro fatto da Iro, da Iro che poi avremo con noi qua in studio per parlare, ma sono arrivato al momento in cui devo presentarvi i nostri ospiti, il nostro ospite e con lei che l'accompagna, non sono nuovi in realtà del nostro, eccoli qua, Martino Beria e Antonia Mattiello, che siamo felici di ritrovare dopo l'edizione anteprima del Food and Pastry, dovevamo già accennato al vostro lavoro, dove comunque ci avete spiegato quello che state facendo, ma ci sono anche delle novità, quindi io inizierei magari parlando proprio delle novità e poi anche di come sta andando il lavoro, perché comunque è un lavoro che è già del tempo che fate, quindi parliamo anche della cucinavegetariana.it, però inizierei da quello che hai fatto al Food magari e poi dopo vediamo quello che hai in mano. Lo colleghiamo a quello che hai in mano, al Teatro Food prima abbiamo trattato un argomento interessante che è la sostituzione in ambito vegan, abbiamo preparato il VJB, che è il mio hamburger vegano, ancora già presentato all'Università di Padova l'anno scorso e mi sembrava molto interessante da far assaggiare al vostro pubblico oggi, in quanto è una ricetta di immagine, di impatto, è molto diretta, quindi abbiamo creato un sostituto proteico che potesse essere modellato ad hamburger con delle salse interessanti, una maionese totalmente vegana che abbiamo preparato al momento e direi che insomma c'è stato un bel riscontro, un bel seguito, anzi grazie all'alberghiero che ha dato a disposizione anche i miei due aiutanti, sono stati bravissimi. E questo hamburger tra l'altro io l'ho preso e l'ho inserito anche in versione BBQ, quindi BBQ, all'interno del capitolo di BBQ proprio, nel nostro libro, uscito da un mese, domani compie un mese, vegano gourmand, edito da Gribaudo Feltrinelli, ed è un libro insomma di cui avrei piacere di parlare. E ne parliamo molto volentieri, infatti dunque c'è una componente che poi ci ricolleghiamo anche a Antonia Mattiella, lavoro che fate per lacucinavegetariana.it che consta anche di realizzazioni fotografiche, video, dove spiegate quello che fai, tu sei uno chef vegano e non solo, quindi fate anche molto food photography, quindi fotografia del cibo. Certo, certo, è una componente fondamentale del nostro lavoro, è il come concepisco e come concepiamo noi il cibo, perché per noi il cibo è un tutt'uno con la fotografia, con i video, con la realizzazione di quello che sono i media che stanno dietro al cibo. Quindi il tutto va a completare l'aspetto food che noi andiamo a proporre sul sito e poi nel campo editoriale, sulle riviste, come l'anno scorso abbiamo presentato Vegan Life, che quest'anno ha avuto insomma molto seguito, sta andando bene, si prospetta un nuovo 2016. Continuate a collaborare quindi con Vegan Life. Certo, e poi come sempre in campo editoriale, vedi che noi applichiamo il tutto in libri, siamo già pronti per il 2016 con degli altri progetti, ma ne parleremo poi. Adesso della regia se ci possono mandare qualche immagine del lavoro che realizzate, abbiamo trovato un video sul web, dove vediamo come allestisce la parte visiva. Certo, è un piccolo making of di un set fotografico, si vede come si riesca ad allestire un set di still life, però non still life puro, molto country come sensazione. E quindi è simpatica la ricerca che facciamo durante tutto l'anno di pezzi vecchi di legno che poi grattiamo, ridipingiamo, che ci servono proprio come composizione del set, come sfondo, come base, tavolacce. Tanto che poi anche nel libro vediamo che... Entriamo al studio, rientriamo, parliamo del libro. Sul libro possiamo vedere direttamente la copertina che apre, che è realizzata sopra una tavola, una tavola improbabilissima, che è una vecchissima porta che abbiamo trovato andando... Abbiamo cercata... è stata una ricerca abbastanza estenuante, alla fine ci siamo innamorati di questa tavola... sì, di questa porta che è diventata una tavola... Una porta che è capitata per caso, lungo la strada, fermi ad un semaforo, si guarda di là, dalla strada c'era questa porta... Esatto. ...aggiata. È lei. Sì, sì, siamo con la macchina, immaginati noi due con la porta dietro. Sì, sì, sì. Se tu decidi di infilarla dentro. E vedi insomma come rende, come poi è tutto quanto il feeling che ti dà questo libro, che è molto... Ecco, vediamo se dalla regia riusciamo anche un po' a stringere il nostro operatore, Antonio e Alexandra in regia. Vedete che sono foto, poi anche la scelta della carta, una carta comunque cartamano, grossa, pesata, e dà molto quest'idea di casa. Vedete anche qui, questo è il piatto che avete visto e realizzato lì durante il making of dello stage. Qui abbiamo un altro tipo di legno, insomma, c'è molta attenzione, oltre che al cibo, anche a quello che è l'estetica generale. Che il cibo si mangia anche con gli occhi. È certo. Assolutamente. L'occhio vuole la sua parte. In questo caso, in questo caso, prima lo mangi con gli occhi. E anche regolarmente l'occhio è quello che arriva prima al cibo, prima di tutti. Antonio, abbiamo con noi un altro amico, pittore, vero? Il pittore è sempre con noi. Che ha quindi dedicato un capitolo del libro. Assolutamente sì. Assolutamente. Perché essendo un libro che parla di casa nostra, di quello che mangiamo tutti i giorni, e di un stile di vita vegano semplice e fattibile, giorno dopo giorno, abbiamo dedicato un capitolo interamente a pittore, e selezionando quelle che sono le ricette sue preferite. Noi gli prepariamo dei premi, dei biscotti. Una pappotta che a lui piace tanto. Insomma, sono tre ricette che sono poi anche di ispirazione, dalle quali puoi partire e avere due o tre basi per poi provare ai propri cani cosa può piacergli. Poi siamo sempre abituati a far mangiare agli animali, o spesso nelle famiglie in generale si tratta a mangiare un po' il cibo in scatola. Invece qua c'è un nuovo modo di nutrire i nostri amici. E non richiede neanche chissà quanto tempo, in realtà. Veramente, non più che farsi un risotto per se stessi, forse anche più semplice la cosa. Infatti, il soggetto in queste foto è sempre pittore. È lui, è lui. Ecco, la mano dietro ai video e alle fotografie, di chi è dei due? Allora, è interessante questa domanda. Dietro alle foto, non posso dire che ci sono io da solo, in realtà, perché io faccio lo scatto finale, ma tutto l'allestimento lo curiamo assieme, pensiamo, cerchiamo i piatti in giro, cerchiamo i legni in giro, cerchiamo e poi lo sistemiamo, poi magari ogni tanto io ho gli occhi cotti e prova lei a fare qualche scatto. Dietro invece ai video ci sta lei e io al montaggio, insomma, è una sinergia. È una sinergia. È un gruppo di lavoro. Il pittore nel frattempo si mangia i manicarietti. Sì, lui fa l'assaggiatore ufficiale. Sentite, invece ci eravamo lasciati ad aprile, parlando della cucinavegetariana.it, ecco, come sta andando? Il progetto va avanti e ci sta dando grandi soddisfazioni, stiamo portando avanti dei corsi di cucina adesso, non solo in Veneto, ma in tutta Italia, che ci vedranno per esempio la prossima settimana a Trieste. Sì, la settimana successiva siamo a Trento. Sì, sì. Comunque sta andando a gonfie vele. Sì, siamo contenti. Il sito è stato il punto, diciamo, di partenza e il filo conduttore di tutte le nostre attività. E lo continua ad essere. Continua ad esserlo, certo. Bene, dunque, il rapporto quindi con Vegan Life va avanti? Va avanti, certo. Anche per il 2016? Sembra di sì. Avete delle news? A proposito, ancora si può dire qualcosa? News? No, no. Silenzio stampa. Silenzio stampa. Molto c'è scritto sul libro. Sì, sì. Sul vegano gourmand. È giusto? Vegano gourmand, certo, che si può trovare in tutte le librerie. Speriamo che vi piaccia chi lo sfoglierà e proverà queste ricette. Che ci faccia sapere anche attraverso la pagina Facebook, attraverso il sito, la propria opinione, anche le foto. A noi fa molto piacere avere un confronto con gli utenti. Sì, sì. Anche perché, giustamente, la cosa che ti contraddistingue come chef è il discorso del rispetto dell'uomo e della natura, no? Quando cucina. Assolutamente, certo. E il rispetto dell'uomo e della natura, in questo nostro stile di vita, insomma, è il pilastro di quello che facciamo. rispetto dell'uomo, a partire dalla comunicazione che facciamo verso gli uomini, verso di noi, tutti quelli che ci stanno attorno, fino all'alimentazione che proponiamo e della natura, in quanto tentiamo di non nuocere agli esseri senzenti, ecco, molto buddisticamente parlando. Un altro argomento che meriterebbe un capitolo. Però, i prossimi appuntamenti, tra le altre cose, qua al Food and Pestry o ai Terminali? Al Food and Pestry, dopo, intorno alle 15, 15.30, facciamo una piccola presentazione del libro, avremo alcune copie che potremo, insomma, vendere, autografare, per chi avrà voglia, che ci sarà. Bene, quindi, chi ci segue in diretto, ovviamente, potrà trovarlo, come abbiamo detto, in tutte le librerie. Noi, a questo momento, ringraziamo tantissimo Martino Beria, Grazie mille. E Antonia, non voglio sbagliare, Mattiello, di lacucinavegetariana.it Noi, non voglio sbagliare, Mattiello, di lacucinavegetariana.it